ATS Della Montagna ottiene il secondo posto a livello nazionale nel decimo rapporto di legambiente animali in città. Nel giorno di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali domestici, legambiente pubblica i risultati dell'indagine che valuta le performance che amministrazioni comunali e aziende sanitarie dichiarano di offrire per la migliore convivenza in contesti urbani con animali padronali e selvatici. Cani e gatti sono ancora oggi le due specie che dominano tra gli animali domestici. In Lombardia risultano registrati 1.768.444 cani, vale a dire un cane ogni 5,6 cittadini, mentre 280.256 sono i gatti, uno ogni 35,6 cittadini. Nella sola città di Sondrio, per esempio, i cani registrati sono 7.000. Dall'analisi dei dati ricevuti dalle aziende sanitarie, i premiati sono ATS Brescia e ATS Della Montagna, rispettivamente primo e secondo miglior risultato, nella valutazione complessiva dei 25 indicatori considerati, tra tutte le 50 aziende sanitarie che hanno fornito i dati. Tre le macro aree prese in considerazione per stilare la classifica, a partire dalle risorse economiche impegnate e i risultati rispetto ad alcuni degli aspetti con maggiore ricaduta su cittadini e pubblica amministrazione. È stata inoltre valutata l'organizzazione, in particolare per le strutture e i servizi offerti ai cittadini, e infine la predisposizione ed organizzazione, oltre che l'efficacia, delle attività di controllo. Il premio ai comuni e alle aziende sanitarie sarà consegnato in primavera.